Ben trovate amate anime danzanti, sono qui a Castella, la cristalde del Tempio Sufi, a portarvi un messaggio molto importante, un messaggio che risponde all'esigenza di questo momento, esigenza energetica, di restare in connessione con il proprio centro attraverso la preghiera, attraverso la contemplazione e il ricordo di Dio. Siamo in un momento energeticamente molto potente con dei grandi scossoni, sia a livello fisico del corpo, sia a livello del pianeta Terra, come abbiamo visto purtroppo, e questa grande trasformazione che sta avvenendo fuori e dentro ci richiama e ci ricorda che il ricordo è del creatore è un supporto, è una strada, una direzione che ci sostiene e che ci aiuta per poter affrontare questo grande e importante richiesto cambiamento. Per questo motivo sono a comunicarvi che ho deciso che per un mese da oggi, ogni mercoledì, il mio Tempio Sufi a Brescia sarà aperto, aperto per tutti coloro che vorranno passare un'ora di tempo nella preghiera, nella meditazione o scoprire il potenziale della danza sua, o se già sono i miei allievi o praticanti, danzare insieme a me, nel Tempio, insieme alle mie gonne, nella mia musica e nella mia canta Stella, in modo da restare in questa condizione che ci può supportare. E quindi ho sentito così chiaramente questa necessità di fare la mia parte e poter donare questa possibilità anche perché attraverso l'incontro con voi, il dialogo, la meditazione e la danza anch'io ritrovo la mia centratura e insieme a voi potremo rimanere connessi con le parole che ci ricordano del nostro creatore. E quindi vi aspetto, vi aspettiamo, ogni mercoledì di febbraio e marzo. Infatti attendo solo una vostra conferma e voglio poter programmare come ricevere e gestire sicure le tante richieste che per me vanno. Come avete visto Stella è già entusiasta e vi sta aspettando. A presto, un grande abbraccio intanto. Grazie a tutti.